Siamo al convento di Monte Carlo, nel comune di San Giovanni Valdarno. E' qui che inizia la storia di uno dei massacri più atroci della Seconda Guerra Mondiale, quello del comune di Cabriglia, fra il 4 e l'11 luglio 1944, quando vennero uccisi dai soldati tedeschi delle truppe della Hermann Goering 192 civili fra i 14 e i 92 anni. Mi resi conto che dire la cosa era molto grave, perché il parro mi dice, fra un po' saremo tutti imparati di Gesù. Se no si cammina per questa trassa, non c'è tutto, sento un urlo corale, appiccio qualche urlo corale e poi un urlo di 70 persone. E poi ta 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 quella metà della ricetta non finiva mai. Quando poi arrivò la mia mamma con la mia nonna a lei a Melani, ebbe questa espressione, sembravano una barca di legni bruciati. Se partì in lei per questa stradina, e se è meglio, tu sei figliato maggiore, tu devi vedere perché tu devi ricordare. E portote è la mia nonna a lei per le loro cose, e se semua amici è una barca di legno della legna, e se passasse la mia nonna a lei, se passasse la mia nonna a lei, ma ti sento un po' sarebbe da' 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 da'. Iniziamo Theyrò, Grazie a tutti.